Questo progetto verte su una figura importantissima ma completamente da riscoprire. Adelaide Ristori è stata un'attrice di talento straordinario, un'attrice capace di costruire la propria celebrità gradino per gradino nel pieno ottocento, di riuscire ad ottenere una fama che possiamo oggi definire globale. È stata un'attrice grandissima eppure è stata dimenticata o meglio si tratta di una figura che nota soprattutto agli studiosi di teatro, di musica, di spettacolo, agli storici, ai colti ma non è ancora sufficientemente nota al grande pubblico. Invece è un esempio che va reintegrato nella storia della cultura italiana, del nostro patrimonio immateriale, che va conosciuta come attrice, come donna determinatissima, come icona di stile, come imprenditrice. Questo progetto esiste proprio con questo obiettivo importantissimo che permette anche di valorizzare il patrimonio del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova.